Un saluto a tutti dalla voce di Bruno Pizzol. Andiamo a leggere i risultati e la classifica della 29esima giornata di Lega Pro Girone A. Triestina-Juventus-Naggen 1-0, Lanerossi-Vicenza-San Giuliano-Siti 1-3, Lecco-Arzignano-Valchiampo 2-1, Novara-Padova 1-3, Piacenza-Trento 0-3, Albinore Ferenate 2-3, Pergoletese-Mantova 0-0, Prosesto-Provercelli 2-2, Virtus-Verona-Propatria 2-0, Ferralpi-Salò e Pordenone 1-1. Al comando con 51 punti a pari merito, Prosesto, Ferralpi-Salò e Lecco. Al secondo posto, Pordenone con 50 punti, Lanerossi-Vicenza-Alterzo con 47 punti. A seguire Renate con 45, Propatria 43, Arzignano-Valchiampo 41, Padova 39, Virtus-Verona e Juventus-Naggen 38, Trento e Novara 37, Provercelli 36, San Giuliano-Siti e Albino Reffe 34 insieme alla Pergolettese, Mantova 32, Triestina 26 e Piacenza 24. Un saluto a tutti i tifosi d'Italia!